Upas, spoiler al 2 febbraio, Eugenio pronto a voltare pagina, lite tra Sassà e Mariella. Nelle puntate di Un posto al sole del dal 29 gennaio al 2 febbraio, Nunzio viene dimesso dall'ospedale dopo un'aggressione all'esterno del Caffè Vulcano. Nelle nuove puntate di Un posto al sole, che andranno in onda per la prima volta in televisione dal 1 di 29 gennaio a venerdì 2 febbraio, scopre che Eugenio è pronto ad aprirsi ad una nuova conoscenza. Tuttavia, il rapporto tra Sassà e Mariella entra in crisi dopo una certa confessione. Anteprima di Un posto al sole, Viola capisce che Eugenio è pronto a voltare pagina Filippo sembra spaventato dalle parole di Diego su Marina e Roberto. Gli uomini valutano attentamente a questo punto. Intanto Eugenio aveva intenzione di incontrare Viola dopo l'incontro ravvicinato con Lucia. Mariella non sarà soddisfatta delle azioni di Guido nell'affrontare la situazione di emergenza di Cotugno. In questo momento la donna sente le parole inaspettate di Sassà e trova una soluzione. Intanto Serena cerca di calmare Filippo, che è stato informato del delitto del patrigno. Allo stesso tempo Marina cerca di convincere Roberto a prendere una decisione il prima possibile. Viola capirà che Eugenio è pronto a voltare pagina. La relazione tra Sassà e Mariella è in crisi Raffaele, invece, cercherà di stare vicino al nipote Antonio, che è molto distrutto dai problemi dei suoi genitori. Nel frattempo, il rapporto tra Sassà e Mariella si deteriorerà dopo questa confessione. Giulia ha intenzione di tenere un incontro per impedire che Rosa e gli altri inquilini vengano sfrattati. Ma i negoziati saranno più difficili del previsto. Nel frattempo, una nuova minaccia attacca il centro di intercettazione. A questo punto Giulia finisce per temere che l'aggressione sia effettivamente rivolta a lei. Roberto e Marina hanno intenzione di iscrivere Tommaso all'asilo in modo che non passi troppo tempo con la madre biologica. Mariella e Sassà ricevono però un appello da Alfredo riguardo al barone Cotugno. Alberto approfitta della vulnerabilità di Clara e cerca di avvicinarsi di nuovo a lei. Infine, Nunzio è stato dimesso dall'ospedale dopo il pestaggio. Nunzio era finito in ospedale nella puntata precedente. Nunzio è una delle figure principali di Upas. Il ragazzo è stato protagonista di un momento drammatico. Lo chef, infatti, è stato aggredito violentemente davanti al caffè Vulcano, con gravi conseguenze. Guido ha salvato il ragazzo, che era coperto di sangue, e ha subito chiamato i servizi di emergenza. In ospedale Nunzio ha ricevuto sostegno da Rossella. Tuttavia l'intimità tra i due giovani ha suscitato la gelosia di Riccardo. Quest'ultimo infatti ha creato una scenata di gelosia nei confronti della fidanzata a causa della sua nuova relazione con lo chef del caffè Vulcano.